Non c'è il numero legale? No, no, aspettate, aspettate, 16. Che pasticciaccio brutto in Consiglio Comunale, nuova bagarra sulla delibera di Portaleoni. Ieri dopo la chiusura della seduta, il Presidente Tinari avrebbe annullato la votazione su Portaleoni e su un punto all'ordine del giorno successivo in quanto viziate dalla mancanza del numero legale. Il Presidente però, in una nota ieri sera dichiarato in sostanza che è stato tutto regolare, ha smentito di aver annullato la votazione, ma detto che avrebbe riunito il Consiglio di Presidenza, per una prova video, ammettendo quindi delle criticità. L'opposizione aveva chiesto di rinviare la discussione per avere chiarimenti sulla delibera. Rinvio bocciato con 15 contro 14, collegamenti saltati, intervento dei tecnici e sospensione. Alla ripresa all'appello c'erano 15 consiglieri tra Aule e Internet, più il Sindaco. Il regolamento per le opposizioni, ma si legge anche nell'articolo 36,1, prevede che il numero legale vada calcolato su 32 consiglieri escluso il Sindaco. Tinari in sostanza afferma che non c'è il numero, ma viene corretto dal Segretario Generale e da una dipendente. I lavori poi riprendono e spunta anche un consigliere in più collegato. Quando sembrava tutto da rifare con la seduta da riconvocare per il prossimo 23 giugno, la sera arriva la smentita di Tinari. L'equivoco si gioca sul fatto del Sindaco, che è anche consigliere che vota, e il consigliere Mancini, che è anche membro del Consiglio di Presidenza, che non si è svolto in mattinata, ha detto che proporrà al Consiglio di portare la questione in commissione regolamenti, per affrontare una volta per tutti una faccenda interpretativa che va avanti da anni. È stato corretto da qualcuno lì all'ufficio sulla Presidenza ed è tornato sui suoi passi. Quindi l'ho sentito questa mattina il Presidente, mi ha detto che stava trovando una soluzione che potesse permettere la legittimazione degli atti che poi sono stati votati a seguito appunto della mancanza del numero legale, per cercare di poter porre il rimedio a un errore che ha tranquillamente ammesso. Ma può succedere, il problema è che questa maggioranza continua in qualche modo ad avere problemi al loro interno senza pensare a quali sono i veri problemi della città. Oggi, è notizia di oggi, è che un altro consigliere passa da un gruppo a un altro, quindi si stanno rubando tra di loro i consiglieri. I gruppi consigliari cambiano in continuazione, gli assessori di riferimento a volte ci sono, a volte non ci sono e il Presidente è costretto in qualche modo a metterci delle pezze. L'equivoco si gioca sul fatto del Sindaco che è anche consigliere che vota e il consigliere Mancini, che è anche membro del Consiglio di Presidenza, che non si è svolto in mattinata, ha detto che proporrà al Consiglio di portare la questione in commissione regolamenti per affrontare una volta per tutte una faccenda interpretativa che va avanti da anni. La delibera contestata conteneva lo schema di convenzione tra terra e comune finalizzato alla permuta del complesso di Porta Leoni dove realizzare parcheggi e l'edificio di via Verzieri a Preturo.